Fino ad adesso, guardate ancora il pressing di Cernigoi, mette sempre pressione insieme a Fabbro. Ritura ora su Agresta, attenzione l'errore di Agresta, il gol, gol di Cernigoi. Agresta che ha provato a dribblare il nostro centroavanti, che però è stato bravissimo a contrastarlo e a mettere in rete realizzando questa splendida doppietta. Vediamo la sua esultanza. Rivediamo, Agresta che qui può calciare, si addormenta un po' con il pallone in mezzo ai piedi Cernigoi, non ci pensa due volte. lo contrasta subito e appoggia in porta per realizzare il secondo gol di questa partita.